Un grandissimo saluto al Balletto d'Ischia e un bocca al lupo grandissimo Cross Fingers per il vostro saggio. Proprio in questa giornata, una giornata speciale perché è la giornata internazionale della danza e a questo proposito vi vorrei leggere un breve pezzettino del messaggio di Lin Wai Min di Taiwan, coreografo e ballerino un messaggio lungo, un brevissimo pezzettino La danza è celebrazione della vita. Vieni, spegni la televisione e il tuo computer e vieni a danzare esprimiti con quello strumento divino ed eccellente che è il tuo corpo Vieni a danzare e unisciti agli altri nell'onda dell'impulso Vieni a celebrare la vita con la danza Quindi, secondo l'invito di Lin Wai Min, ci troveremo tutti Vi aspetto tutti a Ischia dal 4 al 7 luglio all'Aaron Dance Festival Sono Anna Maria Eppina Grazie a tutti Grazie a tutti